Ormai torno quasi tutti gli anni, da tantissimi anni e anche stasera sono molto emozionato di stare qui sul palcoscenico di Taormina Arte perché sono solo e quindi spero di riuscire a tenere il pubblico dentro questo racconto, sono alcune favole di Oscar Wilde, sono favole bellissime speriamo, vediamo come va Oscar Wilde e Taormina, il legame è forte Oscar Wilde è venuto qui a Taormina, è venuto da solo, aveva un fidanzatino di 17 anni ma non poteva venire con lui perché era minorenne venne qui e conobbe il barone Von Glöden, quello delle famose fotografie di quei ragazzi nudi con i pampini sulla testa che volevano riecheggiare l'antica Grecia e in qualche modo visse poi qui in un albergo, nell'albergo Vittoria e poi tornò abbastanza presto a Londra con le fotografie del barone Von Glöden e poi è una vita disgraziata, poverino grandissimo talento ma purtroppo l'amore lo ha, come posso dire, lo ha messo nei guai Oscar Wilde e il pubblico sarà attratto e immobile alla lettura delle favole come è accaduto a Tindery? Io lo spero, le favole sono favole strane perché sono favole particolarissime tutte le favole finiscono, lo sappiamo e tutti vissero felici e contenti nelle favole di Oscar Wilde nessuno visse felice e contento ma tutti cascano, finiscono male nel loro fallimento, nella loro caduta lo scudo rettangolare però semicilindrico in modo che poteva attaccarsi il più possibile allo scudo cosa voleva dire attaccarsi il più possibile allo scudo? rompere la misura, avvicinarsi il più possibile al nemico il gladium quindi avvicinandosi al nemico il più possibile con la daga corta, col gladium aveva la possibilità di fare lo sgambetto al nemico e farlo fallere il verum questo è il concetto della verità e della falsità romana qui, in questa strana storia come vi dicevo prima che non finisce mai con tutti vissero felici e contenti vedremo poche favole, due perché sono favole molto lunghe però se volete rimanere fino alle sei io ve le racconto a tutte quelle che sono qui la scena del duello voi sapete che Amleto a un certo momento la Erte lo colpisce perché la Erte ha la spada spuntata non c'ha quella col bottone come Amleto ma ce l'ha spuntata perché lo deve uccidere ormai morirà pure lui e mi ricordo che c'era la Erte che stava lì all'esternità opposta e il povero Amleto stava qui adesso vado nel buio esattamente bravo era il saggio sulle marionette di Kleist che non trovavo più quindi due piccioni con una fava prendo Kleist lo metto qui vedo cos'è Oscar Wilde ah e me ne rileggo beh mica male però eh e deve parlare di un personaggio complesso e da un certo punto di vista soprattutto da un punto di vista infantile scomodo da raccontare perché chi ha scritto l'introduzione si è arrampicato non sugli specchi di più Oscar Wilde nacque a Dublino in Irlanda il 16 ottobre 1854 oh voi sicuramente conoscete che si chiama Francis Bacon conoscete Francis Bacon si quello insomma pittore grandissimo però c'è una magia dentro la pittura di questo in vecchia succede che il sentimento del contrario che è il centro dell'espressionismo tedesco nasce per merito di questo strano complicato complesso poeta che si chiamava Oscar Wilde beh di che per intelligenza ah e fu sempre il primo negli studi classici il sentimento del contrario come nasce prima no? come nasce abbiamo detto 1854 4 8 9 13 14